E' 33 minuti e questo è Planet Rock, abbiamo introdotto i nostri amici, colleghi e successori Rupert e Mixo e dunque noi abbiamo detto ieri che ci sarebbe stata una sorpresa e che avrebbe in qualche modo, avrebbe senz'altro fatto piacere a tutti coloro in quali continuano a farci telefonate a mandarci fax e a scriverci lettere su Kurt Cobain e su Nirvana abbiamo qui con noi, con piacere, un amico che si chiama Lele Marchitelli Buonasera, buonasera, ciao a tutti Lele Marchitelli è il responsabile delle musiche della trasmissione televisiva Tunnel nonché il bassista, quello della sofferenza urbana Dove l'hai presi, diciamo prima, dove l'hai presi quei tre musicisti? Uno è un famoso tastierista, uno è Danny Lorea che lo conosciamo, si conosce, è un veterano, un amico gli altri sono di Piacenza, Parma e di Taranto Cioè tu hai fatto provini in tutta Italia? Un sacco di cassette, ho messo un po' di annunci per radio perché non volevo fare un gruppo di turnisti, no? Di vecchi musicisti, a parte me e Danilo Volevo un po' di giovani, no? Certo, sì Non rotti a qualsiasi cosa, a qualsiasi avventura Qualcuno mi ha detto che il batterista suonava nei Raw Power Ti risulta una cosa di qualcuno? Sì, suonava anche con Riccardo Fogli Beh, è la stessa cosa, Davide Devoti, l'altro chitarista è Salvatore Russo Suonava con Vasco Rossi Ah, però vabbè Fino a due anni fa era nel gruppo con Vasco Quello che si agita tanto o quello che si agita meno? Quello che si agita tanto Ah, lui suonava con Vasco? Sì, praticamente è successo come fanno di solito in Inghilterra Che mettono gli annunci per trovare il bassista, il batterista, il cantante E l'ho messo su una bella band Allora, lei Marchitelli, in quanto responsabile delle musiche che si sentono, degli ospiti Che arrivano nella trasmissione tunnel Che noi spesso abbiamo citato e che abbiamo presentato diverse volte qui alla radio È stato praticamente, involontariamente, colui il quale ha ospitato per l'ultima volta Nella loro carriera i Nirvana in televisione L'ultimo programma televisivo al quale i Nirvana hanno partecipato Mi risulta che sia stato tunnel Triste primato Sì, anche perché non credo Questo qui non era una tournée promozionale No, loro erano in Quando sono venuti ultimamente in Italia Era un giro in Europa E abbiamo chiesto se gli andava di fare questa cosa Allora hanno detto sì Se voi ci date il materiale del video Perché noi vorremmo fare in tutta questa tournée C'era una telecamera loro, materiale loro Volevano fare un video Un video girato così con tutte pezze e spezzone di cose girate in tutta la loro tournée Sì Ecco Ecco, quindi questo è quello che è successo Allora, in Nirvana, quel giorno a tunnel hanno registrato, se non vado errato, due canzoni Sì, due pezzi hanno registrato Due pezzi Che tra l'altro hanno scelto loro Mi pare che ci fosse un'indicazione di suonare altri pezzi Poi loro hanno detto Ah guarda, la cosa è andata proprio così Che è l'ultimo Che facciamo, che non facciamo Facciamo questo, facciamo quello No, facciamo questo Proprio Facciamo questo Assolutamente Come sempre decidevano Insomma, anche le scalette dei concerti cambiavano da concerto in concerto Le canzoni che hanno registrato sono state Save the Servants, che è andata in onda Sì, questa è andata in onda E poi invece un'altra canzone, che è Dumb, che non è mai andata in onda Ecco la cosa che questa sera vi facciamo sentire Cioè un inedito live Questa registrazione di tunnel Che non è andata in onda E quindi non si sa ancora Oggi ho letto sul giornale questa cosa che dovrebbe andare in onda Sul mega schermo Potrebbe esserci Questa eventualità Che questo pezzo possa andare in onda anche in video Più che in onda In realtà andrà Non in onda, credo Sulla piazza Sulla piazza, sì Dipende da se combacerà L'onda Con i tempi Della televisione Ecco l'altra sera parlando Appunto insieme a Lele Dell'eventualità di passare questo pezzo per radio Con tutto Con gli annessi connessi Cioè con i soliti discorsi sul Sfruttare l'immagine dei Nirvana Adesso stanno succedendo cose da pazzi Speculazioni, eccetera Però abbiamo pensato che comunque Fosse un Un doveroso omaggio A tutti coloro i quali volessero sentire Qualcosa che non avevano sentito Dei Nirvana Del loro passaggio in Italia Come tu ne sai qualcosa Si stavamo accennando prima Su questa grande operazione di sciacalla Che sta Si perché sembra che addirittura ci sia In classifica Qui in Italia Un Classifica Adesso non so quale Credo musica e dischi Adesso addirittura posso Azzardare un nome Un loro un video Che in realtà non esiste Quindi bootleg? Si Già Un video bootleg Si Probabilmente fatto con pezzi di video Regolari Più Pezzi presi dai concerti Che hanno fatto due o tre concerti Che hanno fatto Le date che hanno fatto in Italia E chissà che cos'altro Può darsi pure La canzone fatta tu nel caso mai Ah potrebbe anche esserci quella Benissimo certo Perché no Sempre parlando di questa cosa Tu l'altra sera mi hai detto È una cosa che mi piacerebbe Far ascoltare alla radio Perché è una bella canzone C'era la violoncellista Raccontaci un po' dell'atmosfera Infatti questo è un pezzo Loro erano in tournée Con una quinta persona Che era una violoncellista Di cui non so il nome in realtà Che non ha preso parte All'altro pezzo Ma invece ha suonato il violoncello In questo pezzo E secondo me Questo tra l'altro Era un dubbio Fino alla fine Se non dare questo o quello Poi abbiamo scelto quello Perché era più Forse era più Nirvana Adesso non c'è da dire Era più rock Sì Mentre questo è un pezzo Molto di atmosfera Secondo me È più bella A me piace di più Tant'è che io volevo Mandare in onda quello Poi abbiamo deciso Per quell'altro E Poi si sente All'inizio Ci sono gli applausi Si sente lui Che è un po' Un po' nervoso In realtà Perché Troppi applausi C'erano E quindi Urla uno Shut up Ah State zisti Sì Perché no Naturalmente Il pubblico lì Chiaramente Applaude Quindi però Loro Lui Sappiamo tutti Il tipo Che era comunque Profonda tristezza Io ricordo lui Con un Un atteggiamento Tristissimo Che tutti quanti Hanno notato lì Al contrario degli altri Tre componenti Che erano assolutamente Allegri Contenti Lui Lui Credo che abbia detto Quattro o cinque parole Non di più E anche in concerto Grazie Ciao Quando è venuto E quando è andato io E lì è finita Infatti io mi ricordo Di aver visto in televisione Il passaggio di Nirvana Ed aver notato questa cosa Che La canzone di Nirvana È finita con una scenetta No? Si con Lorenzo Lorenzo che entrava E si vedeva Proprio da un lato Dello schermo Quello che se ne andava Un po' intimidito Cioè come dire Io queste cose Fatemi centrare In queste cose C'è una doppia lettura È vero questo Ma è anche vero Che se qualcuno Poi se lo riguarda C'è un C'è stato A un certo punto Lui che ha allungato Una mano Cercando di togliere La parrucca Alla penso Lui Kurt Si Con un fare serio Però nel senso Che facciamo qui Che stiamo Non so C'era una lettura Comunque molto schivo E timido Anche in concerto Anche nei loro concerti Quindi non solo Nelle trasmissioni televisive No ma questa cosa Di cercare di togliere La parrucca Normalmente facendola apposta Volendogliela togliere Quindi Però poi non c'è riuscito Non c'è riuscito No Allora ascoltiamo Dobbiamo anche dire una cosa Che proprio per varie cose Per evitare In maniera assoluta Possibile Butt leggamenti Di questa cosa Noi sporcheremo questa canzone Cioè ci interverremo sopra Comunque insomma Questo è Una cosa che non si è mai sentita Un omaggio che vogliamo fare Ai nostri ascoltatori Grazie appunto All'Ena Marchitelli Alla redazione di Tunnel Quindi Dalla registrazione di Tunnel Non andata in onda In televisione In Irvana Dal vivo Vocano il brano Dumb Shut up Alla redazione di Tunnel 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 I think I'm just happy I think I'm just happy I think I was happy I think I'm dumb Autore dei sorrisi 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 Autore dei sorrisi